Lili Pietro Rodeschini festeggia quest'anno gli 80 anni di attività, cosa avete in programma per questo grandissimo traguardo? Vogliamo festeggiare gli 80 anni portando con noi tutti i player fondamentali per cui avremo tutta la nostra forza, lavoro per cui tutto il nostro capitale umano andremo a fare un pranzo da Vittorio il 13 settembre. Inviteremo nella stessa occasione anche alcuni dei nostri fornitori storici per in un certo senso festeggiare in famiglia, tutti insieme e tutti coloro con cui lavoriamo ogni giorno. Ferramenta, giocattoli, articoli per la casa e fornitura di energia, come si resiste in questi mercati contro i player internazionali e la concorrenza che è agguerrita? La nostra forza è diversificare, come ha detto lei, in tanti settori e il servizio. Noi ci siamo, abbiamo i prodotti quando servono e aiutiamo i nostri clienti in tutti i modi in cui possiamo. Avete ampliato ultimamente la vostra fornitura di servizi con la vendita online, cosa vi può portare questo tipo di servizio, quali prospettive di crescita ci sono? Ci può aiutare a raggiungere in modo migliore i nostri clienti che hanno fatto il salto dal negozio tradizionale al negozio online e ci porta anche la possibilità di vendere a quei grossi player, come potrebbero essere Amazon, il nostro prodotto e quindi ampliare la rete dei clienti che andiamo a toccare.